Detmatch a squadre Fuori dai piedi, vado a fare Eliminare tutti i bersagli di CDP Perché lo sembravo È morta Nemico eliminato Sparito Nemico eliminato Versaglio eliminato UAB in arrivo Assegno UAB di disturbo in arrivo Preso Arriva un approvvigionamento alleato UAB alleato in arrivo Arriba un Elstorm Un'altra C'è l'esercizio. Ah, è pronto! Siamo mai deneutralizzati. Neutralizza. Siamo arrivati. Approvvigionamento in arricchore. Siamo arrivati. 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 Siamo arrivati.